Sarà presentato ufficialmente mercoledì il progetto Sposa Sportello per la sicurezza alimentare, realizzato in collaborazione con l'Ordine dei Tecnologi Alimentari della Campania e del Lazio e promosso dall'assessorato alla pubblica istruzione del Comune di Bellizzi. Il progetto, rivolto ai cittadini, imprese e scuole, si prefigge principalmente lo scopo di servizio gratuito di primo orientamento ed informazione nell'approccio alle tematiche della sicurezza alimentare ed etichettatura. Promuovendo e diffondendo la cultura della sicurezza alimentare attraverso l'informazione e la formazione, il Comune intende offrire ai cittadini un valido strumento per essere dei consumatori sempre più consapevoli e responsabili nelle loro scelte, salvaguardando l'ambiente per garantire un futuro sostenibile e sano.